ciao a tutti amici di tons benvenuti oggi proviamo alle qualità video di honor holly uno smartphone da 5 pollici android 4 4.2 telefono di fascia medio bassa sia come prezzo come caratteristiche adesso ci muoveremo passeremo un corridoio poi arrivano all'esterno e vedremo come si comporta con i cambi di luce intanto vi racconto come costretto dicevamo schermo da 5 pollici e un ips la risoluzione 1080 per 720p quindi non è altissima per i standard moderni ma sicuramente adeguata per questa fascia di prezzo non è uno schermo eccezionale per quanto riguarda la visibilità all'esterno sotto sole si vede così così ma comunque è utilizzabile all'interno troviamo un processore mediatek una 65 82 da 1,3 giga abbinato a un giga di ram con un grafico mani 400 le prestazioni che si ottengono da questa piattaforma non sono particolarmente alte usando il telefono si nota qualche scatto ogni tanto qualche aumentamento occasionale niente di drammatico si può utilizzare ovvio che se siete abituati a un top di gamma è un problema serio ma ancora una volta in questa fascia di prezzo è un tipo di difetto tollerabile batteria da 2 milioni per ora ci si fa la giornata intera tranquillamente si arriva a sera per ricaricarlo quando si va a dormire senza usarlo eccessivamente altrimenti come tanti ad smartphone andrà ricaricato a metà pomeriggio adesso ci spostiamo un pochino più in là andiamo a vedere come si comporta con la messa a fuoco dei soggetti un po più vicini qui abbiamo delle foglie che si prestano bene dicevamo un telefono di fascia bassa medio bassa se vogliamo con suo schermo a 5 pollici la batteria da 2000 mAh il processore mediatek il prezzo forse non è collocato nel modo migliore perché adesso in questo momento costa circa 125 euro che è un po un limbo perché per esempio sempre honor che è un sottomarchio di huawei per esempio file 3c che costa 10 15 euro in più ea 2 giga di ram una piattaforma un po più potente qualche scatto in meno e forse preferibile se si vuole spendere proprio tanto di meno ci sono telefoni meno costosi difficile collocare questo onorolli che tra l'altro anche sulla qualità fotocamera non è eccezionale comunque non è che non funziona questo è quanto alla prossima